Anche quest'anno il FAI, Fondo Ambiente Italiano, è entrato nelle scuole per cui involgere insegnanti e studenti in progetti legati all'ambiente e al patrimonio storico e artistico. Questa mattina circa 800 studenti provenienti dalle scuole di Andrea, Barletta, Trani, Bicelli, Ruvo, Curato e Molfetta hanno fatto tappa a Canosa di Puglia, dove, in occasione della settimana del FAI per le scuole, hanno visitato la Domus Romana di Colle Montescupolo. Noi abbiamo un grande patrimonio artistico e dobbiamo lasciare ai ragazzi la conoscenza di questo patrimonio perché possano apprezzarlo. È un'iniziativa che portiamo avanti da tre anni, quindi relativamente nuova, si chiama Mattinate FAI per le scuole. Noi presentiamo solo per le scolaresche dei beni che abbiamo magari aperto in altre circostanze, quindi in questo caso dei siti di Canosa che avevamo aperto in occasione della FAI Marathon. I ragazzi, accompagnati dagli insegnanti, si sono incontrati in Piazza Terme, dove ad attenderli c'erano alcuni studenti dell'Oceo Scientifico Fermi di Canosa, che, appositamente formati e seguiti dalle delegazioni FAI BAT, in qualità di apprendisti ciceroni, hanno guidato le classi alla scoperta del bene. Oggi a Piazza Terme per visitare il mosaico che è stato rinvenuto negli anni 70, quando sono stati fatti gli scavi per i palazzi che si trovano attorno a noi, ed è stato rinvenuto questo mosaico risalente all'epoca di Antonino Pio. Rappresenta un ippocampo che è una scena marina, racchiusa tra delle linee di tasselli. Attorno a tutto quanto l'ippocampo ci sono delle altre linee di tasselli neri che rievocano quelle che sono le onde marine, quindi per questo si tratta di una rappresentazione mitologica marina. Questa domus è molto importante perché è sorta su precedenti centri abitativi, risalenti al periodo Dauno, del VI secolo a.C. e sono stati ritrovati anche delle tombe, in particolare la tomba Grotticella, risalente sempre al periodo Dauno, del VI secolo a.C. e se andiamo ancora più indietro nel tempo, possiamo trovare dei ritrovamenti di buchi, di pali, di abitazioni risalenti al Neolitico. Un'esperienza entusiasmante per i ragazzi, quella che vivono grazie al FAI, alla scoperta delle bellezze del territorio al loro vicino, di beni paesaggistici e culturali poco conosciuti, pregnanti di cultura che il Fondo Ambiente Italiano da anni cerca di tutelare e valorizzare.